Non si arresta l'impegno del sindaco di Ponte Cagnano Faiano, Giuseppe Lanzara, sul fronte del grave malfunzionamento del servizio di consegna della corrispondenza. Una situazione incresciosa, già segnalata agli organi di competenza a mezzo nota del 12 dicembre, che ha reso necessaria la richiesta di un incontro urgente con i vertici di posta italiana S.p.A. per discutere del problema e delle sue più tempestive risoluzioni. Le situazioni più difficili si registrano in via dello statuto, in via scontrafata e più in generale nelle zone di Sant'Antonio, Picciola e Magazzeno. Sulla questione il sindaco Giuseppe Lanzara ha chiarito. Il reiterarsi di questi disservizi è motivo di grande tensione fra i cittadini, che si vedono spesso costretti a pagare more o interessi sulle bollette per via del mancato pagamento, se non addirittura l'interruzione dell'erogazione dei beni previsti, fra cui acqua, luce e gas. Pertanto, il sindaco conclude, rinnovo il mio appello ai vertici di posta italiana S.p.A. finché si siedono al nostro tavolo e ci prospettino soluzioni immediate di un problema che si ripete da troppo ed inspiegabile tempo. S.p.A. S.p.A. S.p.A.